ciao ragazzi ciao ragazze finalmente è arrivato il nuovo lucchiero come vi anticipavo qualche giorno fa è un lucchiero che mi piace molto però adesso dobbiamo vedere se le cose che mi piacciono mi stanno pure bene quindi oggi tre look diversi e partiamo con il primo allora eccoci qua questo è il primo outfit il jeans con il maglioncino il jeans è molto semplice nero molto aderente e devo dire che è un po troppo stretto per i miei gusti soprattutto quando mi siedo mi stringe tanto in vita il maglione non mi dispiace guarda che bello che è corto è tipo un maglione top bello mi piace questo è il secondo outfit io adoro il fucsia e il nero insieme c'è davvero un'abbinata stupenda molto semplice molto leggera di qualità direi sembra seta bello 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 terzo look questa camicetta molto semplice carina devo essere sincera non mi fa impazzire non so se si vede color lilla nero e lilla qui non mi fa impazzire però carina poi c'è il gilet che ovviamente si abbina a tutte le camicie ecco io questo lo preferisco con con la camicia fucsia per esempio molto semplice vediamo da chiuso come sta eccolo qua questo è il terzo look stringe un po sui fianchi però che dite che dite e questi erano i tre look della nuova box di lucchiero andiamo a vedere che cosa mi scrive la mia stylist caroline caroline e ciao roberta bentornata in lucchiero spero che tu abbia trascorso una bella estate vediamo insieme cosa ho scelto per te per questa nuova box come luco ho scelto il jeans di toxic da abbinare maglioncino di sanco per un look casual e particolare allo stesso tempo abbina in alternativa la blusa di street one quindi sanco era il primo outfit la blusa di street one il secondo dal bellissimo colore energizzante il terzo look invece qui dice ho scelto per te anche la camicia di vero moda 100% viscosa e bellissima da sfruttare su tutti i tuoi jeans ecco forse sta meglio con i jeans chiari infine ho pensato per te al gilet di only questo qua ha un capo da indossare sia da solo che sopra ad un giacchetto infine divertiti a provare i tuoi nuovi capi e ricordati di farmi sapere cosa ne pensi un abbraccio a presto caroline allora devo dire che nel primo outfit c'è purtroppo i pantaloni sono molto belli però stretti allora io sto cercando di dimagrire un po' sono già calata a due chili e vorrei calarne altri due quindi sono un po' in dubbio se tenerli oppure no vediamo vediamo poi cosa c'è il maglioncino sì mi piace tantissimo anche se io non sono solita usare maglioncini dalla vita sì che mi arrivano alla vita ecco ma ecco già di più ai fianchi ma alla vita sono un po' troppo corti però questo quel pantalone nero che snellisce mi piace da matti poi il secondo outfit era la blusa fucsia che io adoro quindi anche per quella è un sì soprattutto abbinata in pantaloni neri assolutamente eccola qua con il gilet sopra meraviglioso la terza la camicia non mi piace tanto la terrei giusto perché così ho lo sconto se tengo tutti i capi perché rinunciare lo sconto soltanto per un capo solo davvero è un peccato e vabbè penso che la terrò a limite la metterò in vendita su Vinted anzi se la volete fatemelo sapere e che me la spedisco insomma ecco ora però vi dico il prezzo allora la camicia di vero modo è 34,99 l'avete vista ancora nuova col suo cartellino quindi il prezzo se volete è questo 34,99 detto questo cosa ne pensate? scrivetelo nei commenti qua sotto qual'è il vostro look preferito? qual'è? 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 vi ricordo che potete avere il 10% di sconto sul vostro primo lookiero quindi chiedetevi il link per avere il vostro sconto scusate ma ogni tanto torna la tosse allora andiamo a vedere i prezzi i jeans toxic 39,90 la camicia di vero modo 34,99 only only questo giacchino 44,99 sancò è il maglioncino 105 euro street one è la camicia fucsia 29,99 cavoli non mi aspettavo dei prezzi così adesso devo rivedere un attimo perché vabbè il sub totale senza sconti 254,87 tariffa di consulenza che viene torta da questo prezzo è di 10 euro vedete che c'è la tariffa di consulenza l'altra volta non me l'ha messa poi c'è il 25% di sconto che equivale a 61,22 in totale sarebbe 183,65 ecco non mi aspettavo che il maglioncino costasse così tanto ci dovrò pensare un po' 183,65 consideriamo che c'è una camicia che non mi piace e che secondo me il maglioncino per quanto bello costa troppo ma vado a prenderlo scusate spaga tutto qui eccolo qua questa è una camicia che non non mi fa impazzire insomma eccola qua il maglioncino è questo cavolo è bellissimo è proprio bello ci devo pensare mi ha un po' spiazzato sinceramente questo sopprezzo guardate che bei bottoni che ha voi che dite? ve lo fate sapere? detto questo direi che questo l'ucchiero è abbastanza approvato al 90% sicuramente terrò questa blusa per quanto riguarda il gilet lo trovo un po' stretto nei fianchi però devo capire no non è non è come si oggi mi mancano i termini non è stretch si dice così giusto? quindi devo valutare un po' di cose spero che mi aiutiate nella scelta quindi fatevi sotto con i commenti ripeto chiedetemi il link anzi vi metto il mio link l'ucchiero qua sotto che se fate il vostro primo ordine avete così il 10% di sconto ragazzi comunque sono soldini perché vedete se io con il 25% risparmio 61 euro e 22 con il 25% di sconto insomma anche 10 euro di sconto 10% di sconto non è che sia proprio malaccio che dite? bene ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto e vi invito ad iscrivervi al canale e siamo indirittura a stiamo andando verso i 1000 iscritti dai dai fatemi raggiungere i 1000 iscritti che poi ci sarà una sorpresa mega galattica per tutti voi ve lo giuro ve lo giuro ci sarà qualche vippone forse per voi ma non posso anticiparvi niente quindi iscrivetevi 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 vediamo in quanto tempo riusciamo a raggiungere 1000 iscritti dai che ci sarà un vippone qua con voi ve lo giuro ciao ragazzi buona serata ciao ciao Grazie a tutti